ciao cosa devo dire devo fare i complimenti al nostro amico luigi rock che in un solo mese ha raggiunto la qualifica di assistant supervisor con forever living perché perché fondamentalmente ha provato il programma easy detox che è un programma detossinante ti fai un bel tagliando del tuo corpo e da lì è nata la consapevolezza che il programma funziona ed è veramente efficace quindi se anche tu vuoi darti un'opportunità intanto per farti un bel tagliando e poi per entrare in squadra con noi sei benvenuto o la benvenuta contattami sarò ben felice di spiegarti come funziona ciao